Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, oggi siamo sui 102 Dalmata, un gioco che è stato rilasciato per Playstation 1 e Game Boy Color, direi di partire subito, ci ho giocato un paio di volte forse, ma proprio forse, giusto per provare com'è il gioco, dunque, dunque vediamo subito i tasti, questo qui vabbè salta, abbaia, annusa e fa la capriola, dunque annusa, annusa ti fa vedere dove devo andare, wow che bello, Io del film so che sono praticamente questi due cuccioli che devono andare a salvare i propri fratellini, so solo questo, non mi ricordo il nome di questo cucciolo, probabilmente questo qui è il primo, Allora, vediamo se si può coppare C'ho una mira, oh E ne ho salvati due, chi ho trovato? Ehm, Gaspare, si è Gaspare, quello magro è Gaspare, quello ciccione è invece Orazio, no 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 no, voglio, voglio, no dai, che palle, Non mi può prendere, cazzo, che pelo, che pelo, lo so, no 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 no, avevo l'ultima vita, non me, ora so come si sentono i cani, attenzione, Allora, io però come faccio a sapere se li ho salvati tutti, eccone uno là, L'abbiamo scoperto, Allora, abbiamo salvato 5 cuccioli, io spero di non averne lasciati, Altri Possiamo anche finire il livello Dunque, questo qui dovrebbe essere una sorta di allenamento, perché questi sono dei pupazzi, ma va, non muore, AIA, BASTARDO! Scivola, 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 mi viene da vomitare, Grazie! Il gatto! Il sergente, il sergente, com'è che si chiamava sto gatto? Fatemi sapere nei commenti! Cosa, cosa mi è arrivato? Cosa lancia questo? No, 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 che palle, sull'ultimo tentativo, Niente, neanche per i denti si attacca Siamo sul treno! Ah, posso anche muovermi! Tapirulan! Facciamo il tapirulan! Ok, sono in un posto totalmente diverso, finalmente, c'è Crudelia Demon Cosa devo fare qui? Ah, wow! È un flipper! Ah, aiuto! C'è il flipper! Non sto schiacciando nulla! Ho trovato un senso a questo gioco! C'è il flipper! 5, 4, 3, 4... Cos'è che dovrei fare? Non ho capito! Allora, togliamoci un attimo dalle balle Ah, allora, forse, forse ho capito Devo pigiare quelli che non si illuminano Devo pigiare quelli che non si illuminano Non posso farci niente, è divertente Eh, nessun animale è stato maltrattato in questo gioco Vorrei specificare Quindi gli animalisti se ne stiano tranquilli Anche perché non sembra provare dolore questo cagnolino Tutt'altro Bene ragazzi, per me il video può finire qui Questo gioco sembra molto Spyro Praticamente devi andare a salvare i fratelli È molto carino come gioco Fatemi sapere se voi ci avete giocato Che cosa ne pensate Se l'avevate anche voi Fatemi sapere, insomma Cosa ne pensate anche di questo gioco Vi invito ad iscrivervi al canale E noi ci possiamo vedere ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Sì! Mi si è buggato il gioco